Larry e Peter sono due giovani guardie incaricate dalla Corte Reale alla protezione della Corona del Re Rosso. È il primo giorno di lavoro per Larry e preso dalla sua inesperienza e dalla sua implacabile curiosità, provocherà non pochi danni alla Corte del Sovrano, tirando con sé suo fratello Maggiore Peter in un'avventura caotica alla ricerca della corona perduta. Oggi, cari amici, dall'universo di Clash of Clans vi presento il diorama del primo cortometraggio animato della Supercell, Lost and Crowned. Ciao a tutti ragazzi, io sono Clay e questo è un mio nuovo videotutorial. iscriviti al nostro canale. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.